ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di rock politics la prima del 2021 in queste settimane queste due settimane di questo nuovo anno in italia regna l'incertezza non si capisce più niente ecco i giochi di palazzo la famo da padroni in questo periodo non si capisce più quale sarà il nuovo governo se resterà questo se se ne formerà un altro se andremo alle elezioni e questo ci sta distraendo soprattutto nell'opinione pubblica dalle tematiche territoriali dai veri problemi dei cittadini in questa grave crisi che stiamo vivendo nelle ultime settimane in cannavese c'è stata una notizia molto sconfortante ecco l'aumento dei biglietti dopo il passaggio della linea ferroviaria cannavesana da gtt a trenitalia ecco questa notizia molto sconfortante perché perché va incidere a livello soprattutto culturale ed economico sul nostro territorio molti politici non hanno parlato di questa nuova di questa novità ecco e questo secondo me molto grave perché sta passando in sordina una cosa una tematica che è una tematica centrale nel nostro territorio ossia quello dei trasporti negli ultimi anni si è sempre parlato di innovare i trasporti di renderli più economici rendere più facile il passaggio da torino al cannavese dal capoluogo di regione al cannavese alle città come rivarolo castellamonte e chi sarà danneggiati ovviamente i cittadini quelli più in difficoltà quelli che ovviamente ogni giorno prendono il treno per spostarsi studenti che in questo periodo magari hanno perso i loro lavori i loro lavori part time che in primavera molto probabilmente speriamo torneranno di nuovo nelle loro sedi universitarie ecco facciamo un esempio da castellamonte a rivarolo bisogna pagare un biglietto che il biglietto della gtt da un cittadino di castellamonte che vuole poi spostarsi da rivarolo a torino deve pagare un altro biglietto che quello di trenitalia commentato da 360 a 4 30 un aumento molto importante ecco si va a danneggiare soprattutto anche la cultura perché i scambi culturali tra queste due aree del piemonte sono molto importanti ne vanno a soffrire soprattutto le attività commerciali che stanno subendo molto anche in questo periodo la crisi del coronavirus e poi c'è un'altra tematica che non si considera la tematica ambientale ecco l'aumento dei biglietti dei treni comporterà un uso più massiccio dell'automobile delle auto un inquinamento maggiore ecco si dice sempre che il cannavese deve fare dei passi in avanti soprattutto in un periodo come questo in cui bisogna ridisegnare la nostra società e la nostra politica però secondo me si va sempre un passo indietro e anche questo questo fenomeno ha dimostrato ha dimostrato i limiti che la nostra classe politica ha in cannavese quindi mi sa secondo me il cannavese ha perso il treno o il tren Italia alla prossima puntata di RockPolitik